Tu mi faccia dare un'occhiata per una persona sola Guardi qua Tu mi devi dire, vada alla trattoria Vada alla semi vuota Vada alla semi vuota, vada alla semi vuota Vada alla semi vuota, vada al posto senz'altro Chi è che fa pirlone? Pirlone servo del padrone Ehi pirlone, servo del padrone A prenotarlo Buono pilestrone, buono Avanti si mette lì, lì le ho dentro Appena entrato, capito subito che è un cretino Minestrone, lo so io perché? Anche io lo so il perché Buono pilestrone, pilestrone così lo fanno sulla Santa Margherita lingue Minestrone, perché non ci va? C'è qualcosa che non va? No, va bene minestrone, va bene? Solo acqua per lei, corrente o la spina Allora acqua, acqua o la spina? Buono pilestrone Questa è l'acqua e questa è la spina Buono Ecco le acqua e la spina Gli elenchiamo ora le sperature massime delle principali città europee Mosca, meno 6 Capo di buona speranza Giuventato Giuventato lo devi dire tu Giuventato Sante Margherite Giu dodici Giu dodici Giu sette non pervenuta No dopo Giu sette Giu sette Non pervenuta Esatto, non pervenuta Si tratta proprio di un cretino Questo è un locale elegante Solo che della pientela sechina lo sta rovinando Oh no, questo qui dentro Cretino Cretino Cosa ha quella macchina di che è su È un duplicatore automatico Ma lei è proprio un cretino Mi chiami il direttore No, la pena Ma se non vai via di qua Non vai via di qua Ti hai 10 secondi Ti fa colpa Ti faccio il conto 9800 Mi chiami il direttore Adesso mi devi buttare L'uomo Cioè ci deve essere uno Che mi prenda la gara L'uomo 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 Prendilo per una spalla E accompagnalo qua L'uomo 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 Tenetemi 36 posti Per stasera E' un accello dell'aido Ciambecilli